Care amiche e amici, salve! Sono uscito a fare una passeggiata, mi trovo nel centro, ho camminato più di mezz'ora, spero che tutti voi vi troviate bene. Oggi non ho usato in tutto il giorno internet, al più presto spero potervi fare dei video che vi piacciono, soprattutto parlando di libri. Sono contento perché nel mio canale di YouTube mi hanno visto i video più di 5.000 volte. Non so invece come mi potrebbe andare in Vimeo e in Dailymotion, comunque non lasciate di seguirmi, spero di avere successo anche in Vimeo e in Dailymotion. Al più presto caricherò altri video, tutorial di gastronomia e anche tutorial letterari. Beh, ringraziandovi di tutto il vostro appoggio, vi saluto e arrivederci. Ciao!